Con mia figlia Downing siamo cominciati a mettere un bastonaggio, una zucca e poi piano piano abbiamo iniziato a comprare altre cose e è diventata una passione per tutti e due. Ci ritroviamo con tanta bella roba, tanta gente che viene, i bambini si divertono, vengono da tutte le parti, al 31 diamo la caramella ai bambini, vengono i genitori. È una grande festa per tutti i bambini ed è una grande soddisfazione. Io faccio la parte elettrica, la parte effetti e mia moglie fa tutta la parte dei costumi, dell'addobbo, insomma. È una grande passione, ci mettiamo tutto alla buona volontà ed è molto bello. Rimarrà l'addobbo fino al 4 novembre, poi inizieremo con l'addobbo di Natale e sarà sempre uguale. Il 31 sarà una bella serata da brivido per tutti i bambini che vengono travestiti, con i genitori ed è molto bello vedere tanta gente che si diverte, ma non con tutti quanti.